Gli amici di chi balla e chi canta siamo pronti per entrare nelle vostre case con una nuova settimana e che settimana? Oggi con noi guardate chi c'è Tadà! Eccomi qui! Un bacione, vi aspetto, mi raccomando collegatemi Ci vediamo tra pochissimo con la più bella musica popolare di sempre